Il passato di Yuzuru E' stata venduta in maniera abbastanza crudele da alcuni abitanti del villaggio Ecco Yuzuru Tutti sono spaventati perché la conoscono E tutti scappano giustamente perché lei era matta E lei non sa perché tutti se ne vanno Sta cominciando a venirle il sospetto di aver fatto qualche cosa che non andava in passato I kami ci aiutino Ah, pensano che sia un fantasma perché la sapevano morta Dicono che viene a vendicarsi per la sua morte Perché gli abitanti di Namai avevano partecipato alla battaglia di Doma Potrebbero anche decidere di pestarla e di farle del male Dobbiamo intervenire, assolutamente Ecco che arrivano Lordian e Yugiri Lordian ci sta un pochino rimettendo la faccia secondo me Perché lui non aveva detto nulla alla sua popolazione del fatto che avevamo trovato Yuzuru Comunque interveniamo per salvarla E quindi c'è un odio mica da ridere Cavolo se lo ricorda Flashback Se lo ricorda Cosa ho fatto Lordian cerca di calmare gli animi ma secondo me è difficile adesso A parte che la gente non sa più a chi credere No, Yuzuru non può ingoiare questo rospo I kami hanno degli altri piani Per qualche motivo, per qualche miracolo Sia lei che Gosezu se la sono cavata dal palazzo che collassava E Yuzuru ha perso la memoria Sta spiegando tutto Quindi Yuzuru non vuole perdonare assolutamente nulla Povera Yuzuru Ciao Dio, povera che poi comunque sia le sue le ha fatte No, la gente è furiosa Vogliono che Lordian stesso la... Porti un'esecuzione qua Direttamente davanti a tutti Chiede scusa poverina Anche se non sa in realtà di che cosa Ovviamente Non ce la fanno però Il popolo non può Dimenticare La bambina Sta andando verso di lei Le darà un calcio La perdonerà? La bambina empatizza La fa star male sapere che lei sta piangendo E quindi le dona un pomodoro Lei lo prende Ma penso che verrà interrotta malamente Perché questa scena io ricordo D'averla vista nel trailer Non è la stessa Dice la bambina Non è la medesima Lei non era... Non era in grado di essere spaventata La vecchia Yuzuru La gente si interroga Forse Lordian ne esce bene Forse La chiama Tsuyu adesso Adesso è una cittadina di Doma Chiede alla popolazione di lasciare La decisione sul fatto Sulla... Sulla vita o meno Di Yuzuru Direttamente a Lordian Forse... Forse la bambina è riuscita anche A placare l'animo di Is Che io pensavo fosse implacabile Ha quel... Quel modo di fare tipico dei giovani Che non riescono a mettere da parte L'odio O comunque le emozioni forti Beh, mi fa piacere Mi fa piacere Nel trailer invece avevo visto Qualcosa di differente Quindi forse si vedrà più tardi Tutto to... Cosa prendo? Cosa prendo? Questo E anche questa quest è andata Rieccoci qua C'è stato un caricamento piuttosto lungo Ma probabilmente a causa della quantità di giocatori Parliamo con Lordian Ok, sì Forse... Forse adesso Lui è un po' più tranquillo Però sicuramente le cose non sono Stabili Allora, mi pare che Ci chieda Il gioco di andare verso Castrum Fluminis Lui va in quella direzione In effetti Anche Yotsuyu Anche Yugiri Eh, andremo anche noi Allora, dove si trova? Vediamo, vediamo, vediamo Qua Sì Ok La missione si chiama I frutti Del suo lavoro Vedete Castrum Fluminis Laggiù in fondo E il modo per comunicare Con quella base È tramite Questo Piccolo Accampamento Militare Che noi avevamo Ampiamente liberato Durante Il La quest principale Di Stoneblood Qua c'è un punto di vista Ma io questo Non me lo ricordavo Allora Cosa succede in questi casi? Si cambia job Si mette qualcosa Che si vuole livellare Tac E si fa Lockout Emote Mi sono fermato un attimo Perché ho visto Qualcosa di nuovo Ho visto La possibilità Di creare Link Shell Attraverso Altri server Il che è Una novità Allora Ritorniamo White Mage E riprendiamo Beh Dovevamo proprio andare qui sotto Qua c'è tutto il gruppetto Si Ci sono veramente tutti In teoria qua dovremmo avere L'appuntamento con l'ambasciatore Che è stato ritardato un pochino Perché Yotsuyu è andata per conto suo Ma Dovremmo riuscire a recuperare Ecco infatti L'astronave Dell'ambasciatore Arrivare qui Ecco Asai Con i suoi due Aiutanti Non ci inganna più Noi sappiamo La sua personalità Un po' strana Un po' folle Ormai non ci inganna E anche l'ordine sa tutto Perché noi avevamo Gli avevamo parlato Gli avevamo detto Guarda che Alla fine Mentre ci salutava Mi ha guardato male Mi ha minacciato Lui vuole escludere Lei dallo scambio E lei non ha recuperato la memoria E si vede che sta bene Quindi Non c'è motivo Di un Di darla all'impero Così erano i patti Mamma mia che faccia Pare che abbia invitato Qualche amico speciale Alza la mano Stanno chiamando qualcuno Chi ha invitato Mamma mia che faccia Arrivano Chi arriva Persone Anziane Ah ho capito Chi sono Anche loro Le ho viste nel trailer Ho la sensazione Siano i genitori Asai Father Esatto Sono i genitori L'avevo sospettato Sono anche i genitori Di Yotsuyu Quindi in teoria Questo dovrebbe farle Venire in mente Quando era stata Trattata male Ecco Asai Da piccolo Ulteriori flashback Un po' troppi Forse oggi Per riuscire a mantenere La sua sanità mentale Colpo basso Questo Di tutte le persone Proprio loro C'è qualcosa che non va Forse ti stanno tornando in mente Dei pensieri Dei ricordi Di quando eri giovane Sì Le viene in mente tutto Con Asai Che la guarda male Tra l'altro Sì Le sta tornando tutto Le cade Lo specchio Che lui le ha donato E la mela Sono i due simboli Delle due personalità Di Yotsuyu Cioè Quella che la bambina Cercava di Accettare Come nuova cittadina Di Doma E il dono E lo specchio Era il dono Di Asai Della scorsa Della scorsa Faccia Notare come Mamma mia Che faccia Che ha l'ordine Non l'ho mai vista così Notare che Yotsuyu Ha subito Nominato Kosezu Come una sorta Di paladino Di difensore Della sua Nuova personalità Raccoglie lo specchio O il piattino Quello che è Io pensavo fosse Uno specchio Yotsuyu ignora La provocazione Di Asai E si gira E se ne va O almeno Si allontana Yogiri Con uno sguardo Si intende Con l'ordine Decide di seguirla Quanto meno Per controllarla Possiamo continuare Con lo scambio Come avevamo deciso L'ordine Cerca di portare avanti La La diplomazia Ancora Ma direi che Tutto si conclude qua Anche Anche il finod L'ha guardato male Anche il finod l'ha guardato male Beh Si sta comportando In maniera Subdola Sicuramente Sta approfittando Della sua intelligenza Per cercare di creare Dei problemi Lord Dien E soprattutto Yotsuyu Si sta utilizzando Dei trucchi sporchi Sta cercando Di risvegliare In Yotsuyu Tutto quello Che Adesso è Fortunatamente Rimosso Però Anche se Per ora Non è ancora Successo niente Sembrerebbe Che Sia una situazione Un po' troppo In bilico Vedremo Fin quanto Riusciremo A trattenere Questo ritorno Di ricordi Vediamo cosa ne pensa Gosezu 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 E' malato Comunque sia Non sta benissimo E ha sempre Una faccia Così Dolorante Pensierosa Si 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 Possiamo entrare Abbiamo chiesto Il permesso Per educazione Ma siamo pur sempre Il re di Doma E' bello Questo letto Mi chiedo Se sia presente Come mobile Per la casa E quando Tsuyu è tornata Non ha fatto Una parola Sembrava Sembrava Molto Molto Giù E ha portato Quel frutto Cos'è successo Chiede Perché lui Non sa Ancora Nulla Eh L'ambasciatore Ha sorpresa Si è presentato Con i parenti Quindi Yotsuyu Poverina Ha avuto Dei flashback Della sua Infanzia Terribile E' stata Maltrattata Quando era Giovane Quando era Piccola Questo è stato Veramente Un trucco Crudele Perché Potevano Diciamo Se avesse voluto Farle del bene Avrebbe Approfittato Di questo momento Per non farle Tornare alla memoria Quello che è stato Il suo terribile passato Invece E' andato Proprio a cercare Quel passato Per Addolorarla Quindi Non c'è assolutamente Affetto Verso di lei E già Si vedeva Quando era piccolo Che la guardava Con odio O comunque In maniera apatica Mi sembra Che stiano Discutendo Sul fatto Di Raggiungere Castron Fluminis Perché Temono Un trucco Perché Allora Mi è perso Di aver capito Che vogliono Una riunione Direttamente Nella base Imperiale E questo Potrebbe portare A un tradimento O comunque Sia Un Un imboscato Una trappola Con la sensazione Che anche Questa Sia una trappola Questa ragazza Si è Presentata Alla porta E ha richiesto E ha richiesto L'attenzione Di tutto Il gruppo E Gosezu Torna Pensieroso C'è tanta differenza Dal Gosezu Che avevamo Conosciuto Sempre pronto La battaglia E Ho alla battuta Bella Questa scena A livello Cinematografico Ha una Bella regia Strano C'è qualcuno Che chiede Aiuto Chi sta Chiedendo Aiuto Ci sono I genitori Di Yotsuyu Per terra Feriti Chi potrebbe Averli Lasciati Così Che sia Tornata In sé Yotsuyu E abbia Deciso Di eliminarli Ecco Attenzione Allora Vediamo Come sono Andate Le cose Allora Loro Sono Entrati Ah no Questo è Yotsuyu Ok Che sta Correndo Perché Ha delle Difficoltà A mettere A tacere I fantasmi I demoni Che ha In testa Si è trovata Qui Sotto Quest'albero E probabilmente Si è trovata Davanti I suoi parenti Che in realtà Non sono i suoi genitori Sono i genitori Di Di Asai In realtà Sono Una sorta Di genitori Adottivi Per lei Però La trattavano male Addirittura Mi pare di ricordare Che la La facessero prostituire Cioè qualcosa di veramente terribile Lei ha messo mano a un pugnale E decide di tagliarsi la gola Non vuole più soffrire Chi c'è? Eccoli qua Quindi lei passa probabilmente da un tentativo di suicidio a un'aggressione Si si loro la stanno addirittura provocando Dovrebbe suicidarsi Che abbia a meno la cortesia di uccidersi Si temo che adesso ceda Si 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 la sta mettendo giù veramente dura Dice che potrebbe iniziare di nuovo il suo vecchio lavoro Ecco la risata di Yotsuyu Quella che conoscevamo È tornata Se alla fine il piano di Esai è andato in porto Se non posso scappare della mia natura L'abbraccerò Si è anche armata quindi Si farà giustizia per quello che le è successo quando era giovane Si ha provato Dolore e umiliazione a causa loro Sta cercando Stava cercando vendetta Ha riversato tutto il suo odio Contro Doma E adesso riprende Cominciando da loro Mi sembra che si sia sporcata di sangue il volto Si? Mamma mia! Numero due A questo punto il guerriero della luce Ha visto tutto questo Quindi sa esattamente Come sono andate le cose Mamma mia! Gli somiglia anche ad Asai A non che di simile Con gli occhi fuori dalle orbite Cosa succederà? Si passerà una doppia personalità? Oppure definitivamente lei tornerà a quella che era? Applausi di Asai Che era nascosto Potrebbe anche decidere di uccidere lui Che sorpresa fratello Carissimo Due menti malate Uno davanti all'altra Tra l'altro Asai Ricordiamoci che non ha fatto nulla Davanti alla visione Dei suoi genitori uccisi Non ha reagito in nessuna maniera Mi sembra anche che abbia un trucco diverso adesso Ok, finisce l'effetto dell'eco Il guerriero della luce in teoria dovrebbe essere Terrorizzato Non vuole morire No Mi spiace Tutto sommato te lo sei meritato Qualche segnale? Qualche traccia di lei? Cosa è successo qui? E noi Gli spieghiamo tutto Sì Sapeva che questo sarebbe successo Bisogna riunire gli altri Gli spieghiamo tutto